ma cerchiamo di ottenere allo io sei allo ma come fai no 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 lo dico così perchè voglio essere talmente idiota ironicamente idiota da fammi dire allora tu sei pazzo capito perchè io sono matto ma tu mi devi capire lo sai che io ho ci sono quei momenti in cui su essere ragionevole altri invece che sono matto dalle gara dire me basta il danno critico io ne ho 10 te no aspetta ma c'è un altro limbo oh non più io che ne sapevo che c'è aspetta 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 su occhio abbiamo con noi un arrow abbiamo un support con lo so però qui dobbiamo avere i corrupted se non ci sono i corrupted allora tu puoi sognare questo oggettonino no io non sto scherzando non sono io non sono io per favore non uccidetelo uccidetevi carlos ma dai ma dai perchè non l'avevo ucciso ma dai ma dai ma dai ma dai ma dai si fai un danno che potresti creare una una cannificina mamma mia che colpi nooo oh ember madonna oh io mi prendo wilm oh io ember capito si ci aiutiamo aiutiamoci però però allora ti ricorda che noi ci dobbiamo aiutare per trovare Frost per il complimento no però ti ringrazio col cuore cioè questo è un complimento fatto col cuore no perchè sono matto io vai e già ti guadagniamo la prima stellina dai voglio il sfogarello ma qualcuno ha preso uno spionaggio non l'ho capito io a me è stato uno spionaggio questo c'è tu guarda che bug madonna ragazzi c'è quando se devo cadere un precipizzo non muoio ma che bug assurdo no vero assurdo mamma mia ma io quelli di livello 28 li ammazzo tutti faccio una cannificina incredibile in stile corpus e questo c'hai bravo bravo vai col fuocarello che non bruci nemmeno il mio sedere bravo bravo dai dai scotta tutti voglio è il fuocarello non l'ho capito boh ah allora l'ho capito la gente la gente per fortuna 7 io non so pure idem 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 no puttana di eva no 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 ma c bella infiltrato no niente niente aspetta no 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 ti prego ti prego quel deficit si chiama no si chiama ferity jets ma tu guarda aspettavano me ma quanto siete gentili gentilissimi da parte per fortuna metti il segnale ah no no se metti il segnale poi arrivano gli altri nooo e dio perchè io perchè cosa ho fatto oggetto non identificato ottimo saperlo aspetti oh vieni pezzente lezzo suino non dillo e occo eh che ho non ti prego veramente dai siamo facciamo le persone grandi te lo di no aspetta callos guarda sto nell'allarme e poi non mi scopre pezzente mans lezzo ma mira ma io già ce l'ho wilm no non ce l'ho allora tu mi fai solamente un solo aiuto quello aiutarmi a farmi i frost ma io ma lo so è inutile anche se è un pochino inutile che te lo dico ci ho capito come tenere le tracce diciamo i raggi un pochetto da ragazzi così scherziamo davvero questa cosa è lezza suina pensola che madonna ragazzi facile facile facilissima no sembra stata a chiedere lui così prezente si un bel a me mi sembra a me sembra un drag mi sembra un drag mi sembra un drag mi sembra un drag mi sembra un drag un bel volante un bel volante cosa vabbè io ti sto aiutando a fare 6 pesette tu è vero che hai detto che ci ti aiuto hai presente il jackal ma è più più ma è più più è più strozo sempre 7 non c'è bisogno di chiederlo vabbè aspettiamo il timer tanto non arriverà mai invece dai 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 no madonna non muassà è anche qui non 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 adesso non 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 man Grazie a tutti. 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 Nocchi.